Bene, ci ritroviamo insieme per aprire un altro argomento, un altro capitolo della puntata di oggi di Just Today, è proprio il caso di dire perché parleremo di un progetto sociale molto bello ed importante dal titolo Biblioteche senza frontiere. Lo faremo con Andrea Fontana, coordinatore del progetto Propulsioni Digitali, comunità, formazione e lavoro. Andrea Fontana che vedo in collegamento con noi e che saluto. Buongiorno Andrea, ben trovato. Buongiorno Tony, grazie mille per il video e un saluto a tutti. Grazie a te per la disponibilità a raccontarci di questo bellissimo progetto che appunto tende a fare comunità e formazione e a generare lavoro. Insomma temi importanti in maniera particolare per le aree interne del paese ma ce ne parlerai tu stesso. Ecco di cosa si tratta? Sì, innanzitutto voglio introdurre un pochino la realtà per cui lavoro e con cui stiamo proponendo e promuovendo questo tipo di progetti anche per il territorio pugliese. Biblioteche senza frontiere Italia è un'associazione giovane nata in Italia tre anni fa ma ha radici più profonde, è stata infatti fondata nel 2007 in Francia. Una missione ben precisa, quella di portare l'accesso all'informazione, all'istruzione e alle risorse culturali a tutti coloro che ne hanno bisogno, in particolare che si tratta appunto di contesti nei quali sono presenti crisi umanitarie o anche che si tratti di comunità escluse o presenti all'interno di contesti di marginità sociale. È una missione ben precisa, in Europa siamo presenti anche in Francia, come dicevo, ma anche in Belgio e siamo presenti anche a livello globale con una presenza negli Stati Uniti, quindi molto lontano, e nel continente africano con progetti di sviluppo e implementazione dove sono presenti i nostri branch locali. Per rispondere a questa missione abbiamo, facciamo, realizziamo dei progetti, uno di questi è Propolzioni Digitali, a cui facevi riferimento. In particolare, saprai che gli indici della cosiddetta povertà educativa sono sempre preoccupanti, in Italia in particolare molte fasce della popolazione, soprattutto quelle giovanili, sono escluse dai risorse culturali, gli indicatori, insomma ci dicono che si legge sempre di meno. Biblioteca Senza Frontiera Italia promuove, quindi a livello locale, progetti di innovazione sociale e culturale che rispondano appunto a questi bisogni. Lo facciamo attraverso un lavoro di capacitazione e potenziamento delle strutture bibliotecarie esistenti sul territorio nazionale. Lo facciamo attraverso delle tecnologie sociali, in particolare, e queste tecnologie sociali sono state sviluppate prevalentemente in Francia e le stiamo trasferendo gradualmente anche in Italia. Una di queste è la Diaz Box, che è una mediateca mobile che offre una selezione di contenuti abbastanza diversificata, per lo più contenuti culturali, quindi contenuti audiovisivi, libri, testi, tutto ciò che è presente all'interno di una biblioteca, ma che notoriamente appunto, dato che è all'interno di una struttura fissa e non mobile, non può essere trasferita, non può essere importata laddove appunto non ci sono ancora strutture bibliotecarie e laddove appunto non ci sono neanche le librerie dove poter acquistare i libri. In questo momento in Italia queste tecnologie, queste Diaz Box, sono già presenti, per esempio, a Palermo e a Napoli. A Napoli ne è stata inaugurata una recentemente attraverso un altro progetto. In realtà è stata inaugurata a Venezia, ma arriverà a Napoli, insomma, in queste ore. Sarà utilizzata all'interno dei webperi spagnoli e avrà questa capacità, insomma, ignorante poi di raccontare in realtà un programma appunto di affabilizzazione e sensibilizzazione sugli oceani, quindi su un tema a carattere ambientale. Quindi questo è quello che facciamo a livello generale. Propolzioni digitali in realtà è un progetto, come dicevi, di inserimento e formazione, inserimento lavorativo con appunto una proposta appunto di formazione su competenze digitali. Si propone di creare tre acceleratori professionali in tre regioni del sud Italia, la Calabria, la Campania e proprio la Puglia. E attraverso l'Ideas Box, che è il contenitore, l'ambiente appunto di apprendimento che ho appena introdotto, di lanciare un programma formativo di 12 mesi destinato a 600 beneficiari, cluster di imprese coinvolgendo una rete bibliotecaria a livello nazionale che appunto è presente nei territori di Lamezia Terme, di Napoli e in generale della Puglia. Grazie Andrea, molto bello e interessante il progetto direi anche importante, necessario. Tu sei di Roma ma vivi e lavori tante volte in giro per l'Italia e hai esperienza non solo delle grandi aree metropolitane ma anche delle aree interne a cui facevamo riferimento prima. Ecco, dalla tua esperienza personale, le povertà educative poi in fondo, come dire, sono le stesse nelle grandi città e nelle aree interne o ci sono dei tratti peculiari che le distinguono? Sicuramente ci sono dei tratti peculiari necessariamente, motivo per cui è importantissimo fare un'analisi di contesto e dei bisogni specifici delle comunità locali. Se facciamo riferimento alla povertà educativa nel caso appunto di biblioteche senza frontiere e della cultura ma anche appunto dell'inserimento sociolavorativo, le città e i contesti urbani sono chiaramente molto diversi rispetto a quelli delle aree interne, appunto delle aree più marginali o comunque meno densamente popolate. Ci sono differenze a livello di chiaramente opportunità, ci sono differenze legate alla rete di servizi e ci sono anche differenze legate chiaramente alla capacità delle persone di muoversi e di spostarsi. In qualche modo mi lanci un assist perché per esempio in Puglia il progetto Propozioni Digitali arriverà ma arriverà proprio con una proposta etinerante per andare poi a rispondere a esigenze di beneficiari quindi persone che hanno più difficoltà probabilmente anche a spostarsi per fare formazione per in qualche modo rilanciarsi all'interno del mercato del lavoro. Quindi è essenziale diversificare poi le risposte a seconda del contesto e sì, quello delle città è veramente molto diverso, è una velocità molto diversa rispetto a quello delle aree rurali in tutti i paesi. Bene, grazie Andrea. Noi magari più avanti torneremo a parlare del progetto Propozioni Digitali per andare a conoscerlo più nel dettaglio e seguire appunto gli sviluppi dello stesso. Nel frattempo vi invitiamo a collegarvi sul sito Biblioteche Senza Frontiere Italia che ci sembra davvero uno strumento molto importante sul fronte della promozione sociale. Andrea non ci resta che augurarti quindi buon lavoro nella speranza di ritrovarti più avanti per conoscere appunto lo stato dell'arte dei vostri progetti. Grazie mille Tony, grazie mille per l'invito e mi lasci un assist anche qui. I prossimi corsi partiranno a luglio quindi seguite ovviamente tutte le pagine social di Biblioteche Senza Frontiere per rimanere aggiornati sulle opportunità. Grazie a voi. Grazie a te, sì così che in maniera tale quanti di voi si ritrovassero nelle condizioni di poter fruire di questi servizi, di queste opportunità e possano coglierle. Grazie ancora Andrea, buona giornata e buon inizio di settimana. Noi adesso ci fermiamo ancora per qualche istante, poi ci ritroviamo con l'eofania per le ultime notizie e i vostri scatti che stanno continuando ad aggiungere al 331 737 8033. Restate con noi.